La Procura di Pisa ha depositato l'appello per le tre assoluzioni pronunciate nei mesi scorsi dal giudice dell'udienza preliminare Pietro Murano, che aveva prosciolto il sotto ufficiale dell'esercito Andrea Antico, ex caporal maggiore accusato di omicidio volontario in concorso, l'ex comandante della Folgore Enrico Celentano e l'ex aiutante maggiore Salvatore Romondia, entrambi accusati di favoreggiamento per la morte di Emanuele Sceri, il parà della Folgore trovato morto alla caserma Gamerra di Pisa il 16 agosto del 1999. I tre imputati erano stati giudicati con la formula del rito abbreviato, mentre altri due ex caporali, Luigi Zavara e Alessandro Panella, entrambi accusati di omicidio volontario in concorso con Antico e giudicati con il rito ordinario, sono stati rinviati a giudizio e per loro il processo davanti alla Corte di Assise è iniziato nelle scorse settimane. Nelle sue motivazioni il GUP afferma che il decesso di Sceri avvenne per morte violenta pur ritenendo che gli indizi a carico di Antico, ritenuto dalla procura corresponsabile della morte del giovane paracadutista insieme a Panella e Zavara, non fossero sufficienti, così come ha ritenuto non sufficienti per una condanna le accuse ai due ufficiali. La procura però è di un altro avviso e ha fatto ricorso al secondo grado di giudizio, così come hanno fatto i legali della famiglia Sceri che avevano già impugnato la sentenza a fini civilistici.